Ad accorgersi di quell'uomo che annaspe in acqua nella zona della seggiola del Papa è un grottarolo del passetto con un passato da vigile del fuoco. Lo porta fuori e tenta per primo di strappare l'uomo alla morte, mentre scattano le chiamate di soccorso alla medicheria e punto di primo intervento allestito nella spiaggetta urbana di Ancona e al 118 che giunge poco dopo scendendo con l'ascensore. Intervengono la Croce Rossa e la Guardia Costiera, ma nonostante lunghi tentativi di rianimazione non c'è nulla da fare. Muore così in un tuffo per affrontare la calura di una torrida giornata di luglio. Adolfo San Palmiere, 80 anni, residente ad Ancona, l'anziano sarebbe stato colto da un malore mentre si trovava almeno a 150 metri di distanza fuori dal perimetro delle acque controllate. È stato fatto un primo tentativo da un proprietario di una grotta che aveva delle nozioni di pronto soccorso. Sono stati allertati il pronto soccorso che sta qui, che sono intervenuti con un defibrillatore e con una bombola di ossigeno. Poco dopo sono arrivati anche i medici del pronto soccorso, i medici infermieri. Hanno provato anche loro a rianimarlo. Dopo una mezz'oretta hanno desistito perché hanno visto che purtroppo non c'era niente da fare. Abbiamo una medicheria più che altro per primo pronto intervento, poi dopo succede cose molto più gravi che ci sarebbe bisogno veramente di un'equip medica. Io ho il BLSD, abbiamo provato ma ormai non c'era più niente a fare. Anche il 118 è arrivato subito, però ci vorrebbe altre persone perché è una spiaggia lunga, più aiuti seri, più presenza. Nella morsa del caldo si moltiplicano i malori, mortale quello avvenuto nel pomeriggio nel porto di Ancona alla zona in barchi. Vittima una turista americana di 64 anni che stava per salire su un traghetto per la Grecia, si è accasciata e si è spenta davanti alla sua compagna di viaggio. Meno gravi gli interventi avvenuti in mattinata con l'intervento della Croce Gialla per un signore di 70 anni che si è sentito male sull'autobus e un marittimo originario del Nord Africa che ha avuto un malore al porto mentre lavorava. Per fortuna nulla di grave. Sarebbe riconducibile ad un malore anche la morte di una donna trovata senza vita in acqua nella spiaggia di Cole Marina d'Ancona nella tarda serata di martedì. Attorno alle 23 è stato scoperto il corpo di un'anziana donna tra le onde, probabilmente stata vittima di un malore. La donna è stata identificata nel pomeriggio, aveva 65 anni, si chiamava Anna Maria Canonico e viveva in zona. Il marito in mattinata ne ha denunciato la scomparsa, poi nel pomeriggio c'è stata la tragica identificazione. Secondo le indagini della polizia di Ancona la donna si sarebbe sentita male e poi sarebbe stramazzata tra le onde.